Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando dell'ennesimo assalto ad un'azienda orafa appunto del territorio aretino. I malviventi hanno addirittura bloccato le vie di accesso con dei tronchi d'albero, il bottino è da un milione di euro. Nuovo assalto nella notte ad una ditta orafa di Arezzo, la Multiform di Quarata. Un blitz studiato nei minimi dettagli, in una manciata di minuti la banda ha fatto man bassa di preziosi. Attorno alle 3 di questa notte i malviventi utilizzando come ariete una lancia Y presubilmente rubata sono riusciti ad aprire questo cancello. Poi utilizzando sempre la stessa auto i malviventi sono riusciti a creare un barco d'accesso all'azienda. Una volta dentro hanno fatto saltare in aria le casseforti e fatto razzia di oro ed altri metalli preziosi. Si parla di un milione di euro circa di valore al quali si aggiungono gli ingenti danni che la banda si è lasciata alle spalle. 20 minuti circa è stato il tempo in cui i malviventi hanno portato a termine il colpo. I ladri hanno anche bloccato la strada segando tronchi di alberi poi gettati nel mezzo della carreggiata, ostacolando l'arrivo delle pattuglie dei carabinieri e delle guardie giurate allertate dal sistema d'allarme. Si è pulito tutto perché la tiene ogni cosa. Ha tagliato con le due piante grosse là, se lo vedete dai mozziconi che sono rimasti là. E avevano bloccato la strada. Adesso è caccio alla banda. I carabinieri indagano anche attraverso la visione dei filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'intera zona. La banda infatti ha girato le telecamere dell'azienda verso l'alto. La tecnica è la stessa utilizzata lo scorso marzo, sempre nell'Aretino, per un furto in un'altra azienda orafa. E proprio su questo caso c'è l'intervento di Luca Parrini, presidente della consulta orafa di Arezzo. Desidero innanzitutto ha detto manifestare la mia solidarietà all'impresa che ha subito il furto. Rinnoviamo alla Prefettura la piena disponibilità delle associazioni aderenti alla consulta orafa alla collaborazione con le forze dell'ordine. C'è la necessità di dar seguito alle richieste di un potenziamento del personale delle forze dell'ordine impegnato nella nostra provincia. Invitiamo ancora, dice Parrini, le imprese a tenere alta la soglia di vigilanza relativamente all'efficienza degli impianti di videosorveglianza e alla segnalazione di eventuali soggetti sospetti. È stato investito da un'auto ed è morto. Mario Vannuccini, 80 anni, Aretino, originario di Foiano della Chiana, ma da anni residente nel Fiorentino. L'incidente è infatti successo a Campi Bisenzio. L'uomo stava andando al bar per la colazione quando è stato investito da un'auto. Immediati soccorsi, l'ottantenne è stato trasportato all'ospedale di Caretti, dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Ed è morto invece dopo 50 giorni di agonia. L'uomo che era rimasto gravemente ferito la notte del 29 agosto nel comune di Monte San Zavino, 38 anni, originario dell'India, era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici nei pressi del casello autostradale delle Vertighe. Torniamo a parlare di Legionella perché dopo i numerosi casi, non solo ad Arezzo ma in tutto il territorio della ASL Toscana sud-est e quindi anche nelle province di Siena e Grosseto, adesso appunto l'azienda sanitaria corre ai ripari con un percorso informativo. Dopo i numerosi casi di Legionella nell'Aretino, alcuni dei quali mortali, la ASL Toscana sud-est corre ai ripari con un evento informativo organizzato e dedicato per le categorie e i soggetti interessati. Si terrà in tutte e tre le province del territorio aziendale Arezzo, Siena e Grosseto. Il fine è quello di aumentare le conoscenze in merito al pericolo determinato dalla presenza del batterio della Legionella negli impianti idrotermosanitari. Negli ultimi anni si è registrato l'incremento di casi di infezioni da Legionella, afferma il dottor Nicola Vigiani, direttore di area dipartimentale dell'igiene pubblica nella ASL Toscana sud-est. Questo testimonia come sia necessario aumentare la consapevolezza del pericolo e la capacità di gestione del rischio connesso. È quindi essenziale acquisire delle conoscenze di base per meglio comprendere il rischio Legionella dalle cause di contaminazione agli effetti sugli impianti e quindi sulla salute dell'uomo. Domani alle 10.30 i professionisti della ASL Toscana sud-est, i senologi, i chirurghi, gli oncologi e il team Brist Unit saranno ospiti del Centro Tennis Giotto di Arezzo per un incontro aperto a tutti e per parlare di diagnosi, terapia e riabilitazione e soprattutto di prevenzione del tumore alla mammella. L'incontro è promosso dal Calcit. Allagamenti, fiumi esondati e persino un incidente ferroviario. Ma tranquilli, è una simulazione. Torna ad Arezzo l'esercitazione di protezione civile Prometheus. Allagamenti, fiumi esondati e incidente ferroviario. Torna così ad Arezzo l'esercitazione Prometheus che da anni rappresenta un appuntamento fisso per testare il sistema di protezione civile del Comune di Arezzo anche attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio che operano nel settore. L'esercitazione si svolge di intesa con la Prefettura, coinvolti nella simulazione, le forze di polizia, il comando dei vigili del fuoco, l'emergenza urgenza, LFI e TFI. Domenica 22 ottobre il contesto simulato sarà quello di emergenza meteo generato da forti precipitazioni e conseguente esondazione di torrenti minori tra cui il gavardello a nord della città, previsto l'allagamento dei binari della linea ferroviaria Arezzo-Prato-Vecchio-Sia. Il brusco arresto del treno in prossimità dell'area interessata provoca anche alcuni feriti per i quali dovranno essere attivati i soccorsi con l'assistenza sanitaria e durante l'evacuazione dai vagoni. Per gestire gli interventi saranno attivati il centro di coordinamento soccorsi in prefettura e il centro operativo comunale. Durante il test, oltre alla gestione dell'emergenza ferroviaria, verranno verificate anche le procedure relative all'allerta meteo, alla vigilanza del reticolo idraulico, all'assistenza della popolazione, al coordinamento e alla cooperazione tra le varie sale operative con le associazioni di volontariato. Al termine dell'esercitazione è prevista infine una riunione di debriefing per analizzare le attività svolte, individuare le criticità e apportare misure migliorative alle procedure di emergenza. Ed è ulteriormente prorogata, stavolta davvero, non è una simulazione all'allerta meteo emessa dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile per forti temporali, rischio idrogeologico e idraulico, vento forte e mareggiate fino alle 18 di sabato 21 ottobre su tutta la Toscana. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi localmente forti. Torniamo a parlare della Due Mari. È stato approvato dal Consiglio Comunale il ricorso al TAR sulle tanto discusse bretelle. Sì alla Due Mari, ma proprio perché sì, una parte di quel progetto la dobbiamo cambiare per il bene del progetto e per gli interessi di questa città. Il ricorso al TAR sulla questione bretelle E78 si farà. È stato infatti approvato dal Consiglio Comunale di Arezzo l'atto di indirizzo di maggioranza sul progetto dell'ANAS relativo alle due bretelle di collegamento tra la Due Mari da una parte e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la Umbro-Casentinese dall'altra. È un mandato che si sostanzi in pochi punti ma molto chiari. Primo, la città quest'opera la vuole. Noi siamo l'Italia del sì, che le grandi opere le vuole e le fa. Due, proprio perché le vogliamo vanno fatte bene. E allora c'è una contraddizione in termini. Noi non possiamo pensare di fare un'opera di questo valore, di questo calibro, affidandosi in buona parte o comunque in parte sostanziale o consistente ad aspetti progettuali che sono molto vecchi. E allora da qui la scelta di fare alcuni passaggi precisi. Il primo, ricorso al TAR, non un ricorso generico come qualcuno voleva tanto per andare a dire che l'aveva fatto perché quello è fuffa, ma un ricorso specifico finalizzato a stigmatizzare, a sottolineare che la mancata valutazione di impatto ambientale è un errore grossolano. Due, battaglia in conferenza dei servizi, punto su punto, pezzo su pezzo, straccio su straccio. Tre, laddove questa battaglia dovesse essere spedita al vittente, noi ricorriamo al TAR, punto su punto, pezzo su pezzo, straccio su straccio. Due, i consiglieri della maggioranza che non hanno votato per l'atto di indirizzo che poi ha dato il via libera per il ricorso al TAR, mentre alcune polemiche si erano accese per il documento di Scelguarezzo posticipato nell'ordine di votazione. Siamo alla politica, ringrazio per il contributo e auguro migliori fortune, così Mario Agnelli, responsabile degli enti locali per la Lega a livello regionale, commenta la fuoriuscita di Cinzia Santoni dal partito insieme ad altri nove iscritti. Una risposta appunto sibillina per non voler dar peso a questa vicenda interna. Santoni, dopo le prese di posizione sulla appunto posizione politica da tenere all'interno del Consiglio provinciale, si era autosospesa e adesso praticamente alla vigilia del congresso regionale ha deciso di uscire insieme ad altri militanti sia del Valdarno che di Arezzo. Se devono stare in un posto contro voglia, prosegue Agnelli, pensando di essere vessati, capisco la loro decisione. E parla proprio di politica, ma questa volta abbraccia un tempo davvero lungo, ovvero dal 1985 al 2020, il libro Ombre Rosse di Claudio Repec, che sarà presentato domani alla Borsa Merce alle 15.45. Intanto vi facciamo ascoltare un piccolo estratto dell'intervista realizzata da Radio Fly e che poi andrà in onda questa sera, subito dopo, il nostro telegiornale. Politica, economia e società di Arezzo dal 1985 al 2020. Proprio il professor Camillo Brezzi ha scritto di questo libro il periodo stotico analizzato da Repi con una delle fasi di grandi cambiamenti nell'economia con la fine dell'industrializzazione, della prevalenza del manufattiero nel tentativo di affermare una piccola e media impresa, una progressiva ma non risolutiva terziarizzazione, una vera trasformazione sociale. Perché c'hai partato in questo tempo e voluto raccontare questa trasformazione sociale che riguarda la nostra città, Claudio? Perché il punto di partenza del mio ragionamento è che tutti gli avvenimenti politici, veloci, frenetici, di questi ultimi vent'anni sono stati interpretati come nascenti dal nulla oppure frutto del caso. Faccio esempio, il 99 vince Luccherini perché Luccherini è bravo perché il centrosinistra ha sbagliato candidato, 2004 di nuovo, il centrosinistra ha sbagliato candidato, Variantopoli nasce per caso. Non funziona secondo me un'analisi storica, nel mio caso giornalistica, io non faccio lo storico, sono un giornalista, non funziona un'analisi che non cerca di spiegare la genese di quello che è accaduto. Io non credo nel caso, certo, i colpi di fortuna esistono e hanno un senso, però tentare di spiegare la storia politica retina degli ultimi 40 anni senza riflettere che la società reale, la comunità, è radicalmente trasformata, che la classe operaia non è più la classe operaia degli anni 60 e 70, cioè in quella zona abbandonata dell'ex Lebole una volta c'erano 5.000 donne ed erano il punto di riferimento dei partiti della sinistra, ma non solo, anche dei partiti di massa, anche la democrazia cristiana aveva una rappresentanza in Lebole. Tutto questo è scomparso, sono stati modificati radicalmente i modelli culturali, quelli etici, quindi se vogliamo capire cosa è accaduto in questi 20 anni dobbiamo alzare lo sguardo e dai livelli internazionali che non sono inutili, cioè senza Muro di Berlino, senza Tangentopoli, non si comprendono, senza la fine della Lebole, il ridimensionamento dell'Una R, la chiusura della Sacfe, non si comprendono cose locali. Si chiude domenica prossima, 22 ottobre, la 26esima edizione del premio nazionale di pittura città di Civitella con una mattinata di premiazioni. Al primo posto Paolo Fedeli di Gambassi Terme con la sua opera Metropoli, al secondo Gianpaolo Beltrame di Scandicci con l'opera La Resa. Anche quest'anno si è rinnovato il connubio fra il paese e l'arte, che conferma ormai da tempo di attestarsi su elevati livelli espressivi. L'uomo più crudele del mondo, Guanciale e Montanari, aprono la stagione teatrale a Cortona. Lei ha passato le ultime settimane della sua vita, chiusa a chiave, mentre qualche scantinato si è volto vivo, la scartoffia e i documenti che mi riguardano per arrivare pronto a questo punto. Sì, però con lei le metto Pocanzi non si sa quasi nulla della sua vita se non che lei è il figlio del noto padre. A parte questo nulla, vita privata, gioie, dolori, per chi vota che sono fatti qua. Anche non c'è niente da sapere, che la devo dire, se voto. Lino Guanciale e Francesco Montanari sul palco del teatro Signorelli di Cortona. È stato l'uomo più crudele del mondo di Davide Sacco ad aprire la nuova stagione. Un testo teatrale in cui il pubblico perde ogni certezza e si ritrova in un viaggio in cui il rapporto tra vittime carnefice di volta in volta viene messo in discussione e ribaltato. L'uomo più crudele è un'intervista che fa un giornalista che scrive per un quotidiano locale a questo grande armiere, ovvero produttore di armi più importanti d'Europa. Felicissimo perché per questo giornalista che interpreto io può essere l'opportunità della vita di fare un salto di qualità di carriera, perché questo giornalista è preparato, però insomma vede in questa intervista la sua opportunità, dalle prime battute capisce che non sarà un'intervista semplice. E succede poi la qualunque, è uno spettacolo molto fisico, molto emotivo, molto passionale, molto tensivo. È il pretesto per fare un discorso, o meglio la porta d'ingresso più che il pretesto, per un discorso sul male ai giorni nostri e su quanto erronea possa essere la nostra percezione al riguardo, su quanto le cose siano molto più complesse di come le crediamo, ma allo stesso tempo di come non è che sia sbagliata la prima impressione, perché poi questa crudeltà esiste, è che quelli che riteniamo essere i più crudeli non sono così distanti da noi. Quindi in realtà quella specie di virus che riteniamo contagi soltanto alcuni grandi mostri, in realtà ce lo portiamo dentro tutti. Prenderne coscienza sarebbe già un primo passo per forse superare determinate cose. Il prossimo spettacolo in programma il 7 novembre è quello con la rivisitazione dell'opera di Lina Vermuller, travolti da un insolito destino in un azzurro mare d'agosto. Quest'anno è riconfermata inoltre anche la grande musica, proprio perché è un appuntamento a cui teniamo particolarmente e anche il pubblico si sta abituando. Quindi benissimo, Cortona torna protagonista in tutta la Valdichiana, anche con la stagione teatrale. Da Saione a New York il podista aretino Stefano Lorenzini parteciperà alla prossima edizione della Maratona di New York. In vista di questo importante appuntamento si allenerà per le strade di Saione insieme a chi vorrà affiancarlo. Il tracciato si snoderà su un percorso di oltre 4 chilometri e con lui sull'asfalto ci saranno decine di aretini con la stessa passione per la corsa o più semplicemente pronti a partecipare ad un allenamento collettivo. L'iniziativa si chiama From Saione to New York, partirà domenica 22 ottobre alle 8 con ritrovo al bar di via Vittorio Veneto 103. C'è una quota di partecipazione e parte del ricavato andrà in beneficenza alla casa di riposo Fossombroni di Arezzo. Domenica l'AMEN BC Servizi ospita al Palaestra la Stosa Virtus Siena, una sfida dunque di alto coefficiente di difficoltà per i ragazzi di coach evangelisti. Servirà la miglior AMEN BC Servizi domenica alle 18 al Pala Sportestra per affrontare la Stosa Siena che dopo lo stop rimediato nella prima di campionato ha subito invertito rotta conquistando due successi consecutivi. Confermato in panchina a coach Lasi dopo la vittoria dei playoff dello scorso anno, Siena ha affiancato al nucleo storico giocatori di grande impatto per la categoria, permettendo anche la crescita di un talento fatto in casa come Calvellini. Il trio di nuovi arrivati, Bolis, Diminic e Lombardo, hanno dato qualità e fisicità ad un roster già molto competitivo, come l'AMEN BC Servizi ha avuto modo di poter vedere nell'amichevole precampionato disputato un mese fa a Siena. Rispetto alla trasferta di Cecina di sabato scorso, in casa Maranto è pienamente recuperato Terrosi, che va così ad allungare le rotazioni a disposizione di coach evangelisti. Per questa sfida, diventato ormai un classico delle ultime stagioni, la sbacchia ma raccolta tutti i propri sostenitori per provare ad invertire un pronostico sulla carta sfavorevole visto il tasso tecnico dell'avversario. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, noi vi lasciamo all'intervista realizzata da Radio Fly con Claudio Repek per parlare del suo ultimo libro, Ombre Rosse. Grazie per l'ascolto e arrivederci.